Bentornati, qui altre news da Multiversus, appena iniziata la stagione 2, abbiamo visto già il pass battaglia insieme, abbiamo scoperto i 50 livelli sia del pass battaglia linea gratuita sia del pass battaglia linea premium, abbiamo visto le ricompense, le skin, gli standardi, l'icone profilo e i vari boost, ora passiamo alle ultimissime novità. In prima linea c'è un Marvin il Marziano in arrivo, rivelato proprio ieri in tarda sera l'immagine che apparirà nel roster di Multiversus relativa a Marvin il Marziano. Vediamo qui una breve scheda descrittiva che ci dice che userà il suo famosissimo Illudium Q36, l'esplosivo Space Modulator, per chi ricorda i cartoni dei Looney Tunes il Q36, l'Illudium è un classico relativo a Marvin il Marziano, entrerà molto presto nel Multiversus. E sarà quasi sicuramente il primo personaggio a entrare nel roster, visto che tanti da tanto lo volevano e abbiamo già queste immagini e queste brevi informazioni. Altra novità in arrivo alla mappa di Game of Thrones, che avrà delle caratteristiche particolari su cui non sono ancora sbilanciati, vedremo presto delle novità. Ultima ma non meno importante, un nuovo free MVP pack per coloro che possiedono l'abbonamento PlayStation Plus, la skin di Reindog variante Chef, un ring out, un'animazione ring out fior di loto e uno standard manutenzione, davvero molto carine da scaricare e da ottenere gratuitamente per coloro che hanno un abbonamento, PlayStation Plus. Questo è tutto per quanto riguarda queste fresche, succose, nuove, nuovissime novità della stagione 2 di Multiversus, restiamo in contatto per altri aggiornamenti. Ciao! Grazie a tutti!